Comunque non si può lavorare. Cooperativa Racobaleno, buongiorno, sono Barbara. Oh, Cavalier Marchesi, buongiorno. Non è arrivato? Non si preoccupi, viene subito un altro operatore. Arrivederci. Scusa il ritardo. Allora, come sempre, no? Cominciò dall'axia. Allora, signora Corsi? Dai, dai, sbrigati. Oggi c'è un cambio di programma. Questo è l'indirizzo. Sono il campanello, mi raccomando. Segui la lettera a tutto quello che ti dice al vecchio. I blufetti! Allora, signora Corsi? Grazie a tutti. Sì, buongiorno Cavalier Marchesi, sono Simone della Cooperativa, la Cooperativa Arcobaleno. Cosa faccio? L'aspetto qui? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Cavaliere. Oggi l'abbiamo riempito tutto di giallo, sarà contento. A te no, va? Buona fortuna. E allora? Che aspettiamo pesce a venire? Saliamo in moto. Accendi e metti la prima. Sì, signore. Dove andiamo? Parti e attento a non sforzare il cambio. Che fai? Non ti riesce di cambiare? Svolta per lo stadio. Andiamo, andiamo. Prendi il viale e in fondo gira a destra. Fermate, fermate, alzate. Andiamo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.